I fratelli Pedrocki, Gendoro della Saga, commentavano così il brano che stiamo per eseguire. Questo canto degli alpini della guerra 15-18 ha qualcosa di epico che lo isola dagli altri per la sua potenza educativa. Ogni grande musicista firmerebbe questo ignoto testo musicale nato nelle primi musei, un esempio classico che smendisce coloro che vorrebbero negare un valore musicale al canto popolare. Montecanino. Non ti ricordi quel mese d'aprile, quel lungo treno che andava al confine, che trasportavano migliaia degli alpini, su su corrente è l'ora di partire. Dopo tre giorni di strada fermata, ed altri due di lungo cammino, Siamo arrivati sul monte carino, e a cielo sereno ci tocca riposar. Se avete fame, guardate lontano. Se avete sete, la razza la mano. Se avete sete, la razza la mano. Che ci rinfresca, la neve ci sarà. Siamo arrivati sul monte carino, e a cielo sereno ci sarà. Grazie.